Arezzo rispetto a qualche anno fa, anche pre-covid, era zeppa, zeppa, era piena come no, come si dice da noi. C'è stato un gran misto di persone, il problema è che a Arezzo non c'è un bar aperto la domenica, la gente è impazziva. Boom di turisti in città a Ferragosto, oltre le aspettative per i ristoratori, c'era tanta domanda ma poca offerta, i molti segnalano, molte serrande chiuse. C'era la domanda ma non c'era l'offerta, un giro di, si può dire economico, da paura, perché un bar che domenica era aperto avrebbe fatto un incasso stratosterico. Ferragosto direi molto buona la situazione, perché molti stranieri innanzitutto, c'era un sacco di gente, stranieri, esteri e forestieri. A mezzogiorno già c'era gente che aspettava di entrare, poi un'altra cosa, i pochi aretini che comunque sono rimasti ad Arezzo, il loro pranzettino, la loro scena non se la sono negata. Per l'appunto, la prima cosa che mi ha detto una signora che è entrata proprio ieri a 10 a mezzogiorno, mi ha detto che è rimasta molto delusa da questa cosa, che a Arezzo tutti i locali chiusi, bar, sotto questo aspetto sì, è ragione. È capitato che durante la giornata è venuta gente a chiederci il caffè, solo caffè perché non trovava un bar aperto e noi non l'abbiamo negato, come fai a negare il caffè? Ferragosto è andato bene, oltre le aspettative, visto che la stagione era iniziata di lento, Ferragosto e questa settimana stiamo lavorando bene. Ecco, molti ristoratori ci hanno segnalato che molti esercizi commerciali erano chiusi, conferma un po' questo punto di vista? Sì, diciamo che la parte qua su, io ero qui al lavoro, comunque sentivo un po' i clienti che si sedevano, dicevo la parte alta era tutta aperta, la parte bassa, Corso, Piazza San Francesco, Piazza della Badia, Ejou, insomma il Vachrispico e Domonaco, era un po' tutto chiuso. C'era tanta gente? Sì, sì, è stato pieno di gente, ma non solo il Ferragosto, anche la domenica precedente, il sabato, tutta la settimana diciamo, come vedete anche oggi c'è tanto turismo in giro, siamo veramente contenti. Io ero qui, quindi non mi sono reso tanto conto, ma so la detta di qualche turista che trovava sì delle serrande chiuse, non è una bella cosa, sicuramente la città sotto questo mese di agosto deve essere tutta aperta per quello che è possibile, insomma, evitando anche giorni di chiusura perché non è certo una bella cosa per un turista che arriva a vedere se la cinesca abbassate per turno di chiusura in un periodo così, insomma. Noi comunque sempre operativi siamo stati, noi era il giorno di chiusura, si è tenuto aperto perché, insomma, movimento c'era e quando c'è va preso, insomma. Posso dire una cosa? Ferragosto, amore mio, non ti conosco.